Un defibrillatore per San Lorentino, questa è l'iniziativa della quartiere Porta del Foro, ci sarà una cena di beneficenza? Sì, c'è una cena raccolta a fondi organizzata dalla quartiere Porta del Foro e il Leo Club di Arezzo con il patrocino di Estra per la raccolta a fondi per comprare questo defibrillatore da posizionare nella zona di San Lorentino. Quindi sarà di pubblico utilizzo e va a beneficio di tutta la popolazione. Una zona ancora ad oggi scoperta? Sì, ad oggi a parte un defibrillatore in zona Montebianco, lì accanto alla scuola alla quale noi abbiamo contribuito per l'installazione, San Lorentino è rimasta una zona scoperta. C'è anche insomma una palestra utilizzata da molti ragazzi? C'è una palestra, ci sono attività sportive sempre legate alla scuola, attività sportive private, quindi era per noi un punto di forza riuscire a mettere un defibrillatore nella nostra zona. Ecco, ovviamente dopo l'installazione sarà necessario anche un corso di formazione per poi poterlo utilizzare questo defibrillatore? Il quartiere è previsto un gruppo di soci, di persone che faranno questo corso per l'utilizzo del defibrillatore, quindi va a tutela di tutta la popolazione questa nostra iniziativa. Una raccolta che si farà sabato prossimo, 27 maggio? Sì, sabato 27 maggio organizziamo questa scena di raccolta fondi, è aperta tutta la popolazione di Arezzo, quindi non solo ai soci del quartiere, chi vuole intervenire per darci una mano a comprare questo defibrillatore è ben accetto, si svolgerà davanti alla sede in vicolo della palestra alle ore 20 e 30, quindi vi aspettiamo a questa nostra scena.